Non si arresta la corsa a senso unico dell'Invicta, che per 71-75 supera la capobasket sul proprio parquet casalingo di Capodorlando, raggiungendo l'undicesimo risultato utile consecutivo e si appresta ad abbracciare il suo pubblico domenica prossima al Palacanizzaro nell'ultima giornata prima dell'inizio del play-off. La stagione dei record dei cestisti nisseni non sembra avere passi falsi e la vittoria di misura raggiunta a Capodorlando dimostra la forza e la solidità dei ragazzi del coach Giuseppe Spena, oramai pronti a play-off di fine stagione. Basket Serie D, Girone B, tredicesima giornata. Capobasket Invicta 71-75. Zannella Cefalù Basket Messina non disputata. Sant'Agata Virtus Trapani 64-57. Riposa Leonardo da Vinci. La classifica. Invicta 22. Capobasket Zannella Cefalù 14. Sant'Agata 12. Leonardo da Vinci 6. Virtus Trapani 4. Basket Messina 2.